Ciao a tutti, bentravati e benvenuti su Pokémon Violetto! Nello scorso video ho sconfitto il Pokémon dominante Tatsugiri che si spacciava per Dondose, in realtà era infatti il Pokémon dominante dell'inganno. Invece, oggi si va a spidare la penultima base del Team Star, non l'ultima. Però dovrebbe essere una base difficile, credo, dato che è una delle ultime. Dunque si trova, vediamo un po'. Quaggiù. Impostiamo come destinazione La divisione lotta. Bene, quindi la tipa che fa wrestling. Ok, e avendo preso l'ultima mount non ho alcun problema ad arrampicarmi ovunque. Non con... eh, non voliamo perché ho premuto B di stinto. Va bene, non funziona proprio bene, però insomma... Dai, diciamo che se la cava. Inoltre PG sta aggrappato all'addome di Miraydon e non al manubrio come vediamo nei trailer. Che tra l'altro, nei trailer, le mani non sono veramente attaccate al manubrio. C'è un po' di distanza tra i due modelli. Comunque... Oh, qua su c'è una bella vista. Ci sono delle cascate. Ok. Non l'ho ancora visitata quest'area, ma la visiterò un attimino perché qui ci sono tre torri, se non erro. Uno, due e tre. Perfetto. Quelle tre torri dovrebbero avere, in teoria, tutte un Gimmigol. E Gimmigol serve per prendere monete. Ne catturate uno, poi gli altri li usate per farmare monete. Quel Wigglytuff... Fluttuà. Perché fluttuà? Ah, perché certo è tipo folletto, quindi i folletti fluttuano. C'è un rave party laggiù. Yeah! Sono dentro l'area, ma Cassiopea... Ah, ora si è fatta viva? Eh, vabbè, mi avrei trasportato, ovviamente. Ah, perché c'è Garof, quindi è Garof che mi interrompe e non Cassiopea? Boh, c'era anche una Pokéball da prendere, eh. Link, l'operazione Stardust procede senza intoppi, vedo. Rimangono due capi da affrontare. Quest'operazione mi ha aperto gli occhi su varie questioni, ho fatto bene a partecipare. Comunque, che idea ti sia fatto di Cassiopea? È un mistero! Quale sarà il vero motivo per cui vuole scioglierlo? Dopo che l'ha fondato? Torno a fare la guardia, bravo, io intanto mi occupo della base. Che poi Garof se la sta qua a parlare con la capobanda. Bravo, hai talento, hai contrastato gli attacchi dei miei Pokémon, non è da tutti. Quindi Garof, il preside, è praticamente un buon maestro Pokémon. Anche tu sei in gamba, ti chiami in Espera, giusto? Le tue mosse sono molto ben studiate. Ma non capisco perché la capobanda faccia la guardia all'ingresso. Non ti fidi delle tue amiche reclute? Sta zitto, non voglio che qualcun altro oltre a me si faccia male, tutto qui. Ma che capo premuroso. Allora, vuoi lottare di nuovo? Arrivo io. Ragazzi, diamoci un taglio, eh. Ho visto una ragazza che aveva l'aria di far parte del Team Star e ho provato a parlarle. Ma mi ha attaccato all'improvviso. Abbiamo appena finito di lottare. Nespera, sei qui, lo sapevo. Nespola. Nespera, Nespola. Gnappole, ma quanti nomi belli. Ehi, stai bene, non sei ferita? Io sto bene, tu me ti assicuro. No, tu torni alla base, Nespola, qui continuo io. Non lo farò, non posso farlo. Basta, Nespola. Finché non torno all'arcicapo, devo partire a girare la banda K. La divisione lotta e Team Star. Proprio per questo adesso devi rientrare e riposarti almeno un po'. Qui c'è un po' di romance. Sì, no, basta. Un balletto fa diventare. In effetti lei dovrebbe essere tipo una lottatrice, ma sembra più vestita da ballerina. Una ballerina molto particolare, certo. Una fighting... Una Idol Warrior. Ci sono in Giappone Idol Warrior, quindi... Certo che sono pronto. All'attacco. Eccola qua. Jojo Pose e via. Ah, i doppi tipi. Quanto sono belli i doppi tipi. Non ne posso mai fare a meno. Non ce ne sono mai abbastanza i doppi tipi. Bisogna essere sinceri. Non so se farvi vedere tutta quanta la marachella che combinerò ora nella base. Perché alla fine sono sempre le stesse cose. Sconfiggi 30 Pokémon in 10 minuti? Secondo me basterebbero anche 5 minuti. La fine in 3 lo finisci, quindi... 10 perché te ne vai in giro a perdere tempo, magari. Lo sconfitto è rilevante. Vai a chiamare la tua amica, dai. Dille che sto per entrare e sto per combinare un casotto. Sei riuscito ad usare la sorveglianza? Sì, Cassiopea. Comunque buongiorno, anche a te. Questa è la base occupata dalla banda K. La divisione è la lotta del Team Star. L'espera, la capobanda, è un'esperta di lotta libera che fa da maestra a tutti gli altri. Bellissimo, lottare con una mammina. Ehm, no, scusatemi. È possibile che fronteggi gli intrusi attaccando per prima, con l'obiettivo di schiacciarli subito? L'abbiamo già incontrata. Lo sapevo. E com'è andata? Non lo so, è rientrata, è scappata. È scappata? Possibile? In questo caso non si può fare altro che conquistare la base con un attacco frontale. È tempo di dare una batosta alla banda K. Quando sarei pronto a dare via all'incursione e suonare il gong. Che poi io mi chiedo, sta gente, no? Tutta quanta vittima di bullismo, sopprusi e quant'altro. Un giorno vengono chiamati da una misteriosa persona che si fa chiamare Cassiopea, l'arcicapo. Nessuno l'ha mai vista, però loro si fidano ciecamente di questo arcicapo. Ma non esiste. Forse se hai 13-14 anni sei un po' più influenzabile e vuoi scoprire, ma... No, dai, non si fa. Dai. Flamico già è pronto per passare all'azione. Andiamo. Un Prime Apo. No, tu sei il primo. Tu sei il secondo. Ebrelum, tu sei il terzo. Mio Dio, Pamut! Che ti è successo, Pamut? Sbaglio o sono un po' più fortini questi? Eh? Bravo, un attacco elettrico e ce la fai. Vai, Flamico, pensaci tu a questo. A questi due qua ci pensiamo noi. Bella, però, la base qua come è costruita, eh. Ma ci picchia davvero carina. Mi piace. Capo, noi siamo al limite. Ecco che arriva Nespera. Dai, mammina. Ok, sono pronta. Non mi interessa chi siete. Se mi lasciate il Team Star, vi distruggo. Non mi vedrete più scappare. Uohoh! Ok. Ecco la ball, la curable. Carina. Fa capire che nonostante tutto, insomma, è una... Un'attrice premurevole. Questo è il nostro territorio. Non ti permetterò di importunarci oltre. Premurosa, non premurevole. Non so perché mi è uscito premurevole. Comunque, non importa! Vai! Noi. Mamma mia, metà vita solamente. Anche lui non scherza, eh. Che mi ha pure avvelenato, certo. Ogni attacco un contrattacco. E a giochi fatti, chi rimarrà ancora in piedi sarà il vincitore. Mi sa che rimani in piedi tu a sto punto, eh. Perché... Cinque Pokémon! Ma il roll basso! Ma no! Il roll basso, però... E... Cavoli! So io come sconfiggerli a sto punto. Canzone ardente! Mi busto l'attacco speciale e li shotto tutti. Ebbè, spigo! Attacco! Occidenti! Non mi far urlare, su! A parte che la voce mia è forte già di suo. Come apro bocca, faccio rumore. Lucario! È Lucario a vuoto onda? Potrebbe farlo tranquillamente. E sembra che lanci le palle da bowling, no? Oppure a bocce, quando si gioca a bocce d'estate al mare. Lancia? Bello! Vai, anche per te canzone ardente. Pulsar. Ma... Tutti countera! Tutti counter! Per forza! Eh, ho capito che... Sei forte, però... Anche meno countera! Massimian! Lotta scimmia! Che tipo è? Una scimmia lottatrice, sì. Adesso a giocare... Al rugby. Allora, io mi ricarico con una pozione max, perché la hyper non basta. Che fa? Sbigo attacco anche lei! Anche Passimian fa sbigo attacco. Roccio tomba! Ah, mi cala anche la velocità, è vero. Eh, sì, è più veloce Passimian. Non so quanto veloce sia di base Passimian, però... Chissà se avessi attaccato prima. Però è meglio non rischiare in certi casi. Meglio non rischiare. Ora... Che è rimasta la star mobile? No, Annihile Ip! L'evoluzione di Prime Ip! Annihile Ip! Mamma mia! Cattivissimo! Bello! Praticamente è lui che muore e risorge, praticamente. Un urlo di lotta. Pugno furibondo. Oddio, posso reggerlo, eh? Pugno furibondo. Sì, quello che ho cattrato io pure aveva pugno furibondo. Quindi immagino che si evolva facendo un certo numero di volte pugno furibondo. Che suono strano che fa. Sembra come se si rompesse le ossa. Non posso perdere. Dovrò ricorrere al mio asso nella manica. Allora, tu che fai, caro bello? Sono più lento, quindi vorrei evitare di rimanerci secco. Vado con una Iperpozza. Vediamo che fa. Magari fa spaccaroccia, così, a caso. Anche se le mosse lotta non hanno effetto su... High Horse Power, va bene. Forza Equina. E canzoni ardente. A cambio marcia, più veloce e... Anche l'attacco? La velocità e l'attacco. Ah, di molto. Ah, no, la velocità di molto. L'attacco normale. Mi... E che è? Sopportazione anche. Croccomela. La Croccomela ce la fa. La Croccomela resiste. Wow, come la carriata Croccomela questa. Come la carriata. Per la Lega mi sa che devo arrivare oltre 60 a sto punto. Scusatemi, ragazzi. Wow, bellissimo. Un anno e qualche mese prima. Tony Seppia. Scusatemi, ho esagerato. Ma che dici? Te l'abbiamo chiesto noi di allenarci come se stessimo lottando sul serio. Però... Non hai cagione di chiedere perdono. Il tuo ferrio addestramento, nobile Nespera, ci ha spianato la via verso l'eccellenza. Già, se non ci fossi stato tu non penso che sarei riuscito a far evolvere il mio Pokémon. Anche Darci Capo ha detto che grazie a te ora riesce ad affrontare i bulli. Grazie davvero Nespera. Sei un esempio per tutto il Team Star. Oh, ma no. Però, sai com'è? Ci stiamo allenando già da quattro ore e inizio a vedere le stelle. Ah, scusa, allora voi fate una pausa. E nel frattempo mi faccio una corsetta. Quanta energia hai, donna? Noi abbiamo sostenuto allenamenti a turno, mentre tu non eri preso fiato un istante. Temo per le tue condizioni fisiche. Grazie del pensiero, Enzo. Sai, ultimamente non mi importa quanto mi stanco o quanto mi viene da piangere. Abbiamo creato le nostre medaglie imitando quelle delle palestre, no? Ecco, quando le guardo mi sento fortissima e mi viene male di mettercela tutta. Wow. Ce l'ho messa tutta, ma non sono servita a niente. Sei stato forte. Voglio darti questa, anche perché è la nostra regola. Quanto sei alta, tatina? Sembra che stia così. Potere, alfa... No, 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 no. Vorrei anche che provassi a usare questa mossa. Descrivi appieno il mio approccio alle lotte. Zuffa e tanta roba. La insegno subito a Flamigo. Tu, fai parte dell'operazione Stardust. Lottando con te ho capito che non sei una persona cattiva. Si vedeva come ti guardano i tuoi Pokémon. Ora però ti chiedo di non guardarmi. Dammi un attimo. È un momento difficile per me. È fragile. Dopodotto quello che ha passato, immagino. Il modo in cui tu ti comporti con la capobanda è diverso da quello delle altre reclute. Come mai? Non ti sfoggi a niente, eh? E va bene, te lo dico. Io non sopportavo, ne spera. È bella, brava nello sport. È una allenatrice perfetta. Beh, dovremmo vedere senza trucco. Appena ha messo piede all'accademia, è diventata popolarissima. Spodestando me, che fino a quel momento ero la più ammirata. È per questo che ho cominciato a detestarla. Esatto, ne ho fatte di cotte e di crude, coinvolgendo anche i miei compagni di classe. Che stupida che sono stata. Ma in fondo, questi sono giochetti da bambini. Ci si stufa presto e si cerca il prossimo stimolo. E infatti dopo hanno preso di mira me. Io non ho mai capito il prendere di mira una ragazza che non ti va al genio. Vabbè, ragazzo o ragazza, ma non importa. Non ho mai capito questa mentalità. Né quando ero un ragazzino, e tantomeno adesso, non riesco a capirlo. Hai dei problemi risolti in famiglia che ti fanno prendere di mira quelli che ti sembrano più deboli. In questo caso, dato che ne spera era più abile di lei, in tutto, l'ha presa di mira. Mi ha invitata nel Team Star dicendo che è brutto essere esclusi. Proprio lei che era stata bullizzata da te. Che ragazza eccezionale. Da quando sono entrata nel team, vivo ogni giornata in allegria. E certo, fate il cavolo che vi pare. Degli adolescenti che non vanno a scuola e fanno il comodo loro. Anch'io sarei stato molto gioioso in quei giorni. Però, eppure giravoce che quelli del Team Star siano dei bulli. E tu ci credi dopo quello che ti ho appena detto? No, beh, io... Tutto quello che ho lo devo annesperare al Team Star. Non portateci via il nostro prezioso tesoro. Quindi il loro tesoro è la capobanda. Ok, quindi un tesoro può essere qualsiasi cosa. Non per forza qualcosa di concreto. Anche la semplice amicizia che hanno tra di loro. L'amicizia c'è ma non si vede. Link, è giunta voce che ne spera, non è più in possesso della sua medaglia Team. Ma che è un ricettrasmittente nelle medaglie hai messo? Cosa? Perdonami, ci siamo quasi. Manca un solo capo. È solo a merito tu se l'operazione stava in un tale successo. E anche Garof si è rivelato un ottimo aiutante. Hai detto che vi conoscevate già? Siete amici di lunga data? Non ci conosciamo da molto in realtà. In ogni caso è un compagno affidabile. Mi ricorda ebbe giorni andati, passati in compagno degli altri. Di altri? Come se già il Team Star è formato da ragazzi bullizzati a scuola. Poco dopo la formazione del team, i capi ebbero un confronto con i bulli. Il confronto risultato in una vittoria schiacciante per il Team Star, se così possiamo chiamarla. Ogni singolo bull ha abbandonato la lotta senza nemmeno provarci. Spaventati dal Team Star, i bulli finirono per lasciare la scuola uno dopo l'altro. Di contro, ciò ha portato i membri del team ad avere una pessima reputazione. È come il ragazzino bullizzato che l'unica volta che rompe i denti a suo bullo, il maestro guarda proprio quella scena. Invece tutte le altre volte se la dorme tranquillamente e interviene a favore del bullo. Io lo so bene. Come promesso ti invito le ricompense che ti spettano. Avanti, racci, ste M&T aggiuntive qua, ste materiali, forza, che non ho tempo da perdere. È notte, devo andare a mangiare. Capisco. Non sapevo che il Team Star avesse tutta questa storia alle spalle. Le persone che volevano eliminare il bullismo sono ora a causa di timore. Che barzelletta. Gli insegnanti e gli studenti sono proprio scemi. Sì! 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 Se anche solo uno di loro si fosse accorto in tempo del bullismo, tutti avrebbero capito subito che il Team Star non aveva cattive intenzioni! Certo! È tanto facile aprire gli occhi prima e non dopo quando il bullizzato risponde. Invece quelli del Team Star sono ritrovati a lottare in mezzo a delle teste vuote. Oh! E allora? E visto che l'Archicapo ha creato il team in una situazione del genere, non deve essere certo la persona più sveglia del mondo. Parlane bene, Penny, perché ci ascoltano. Il capo ci ascolta, stai molto attento a quello che dici. Fidati, ne sono certa. Beh, ecco, forse... Magari lei conosce l'Archicapo! Ah, lei è anche arabollizzata. Sembra. Un sacco di materiali, proprio un sacchetto intero. Bene, il prossimo che ci manca della banda del Team Star è l'ultimo. Il problema è che per arrivare all'ultimo capobanda, bisogna passare per le terre innevate. Oppure da qui me la parto e me la arrivo al capo. Sì, dai, me la parto da qui e arrivo al capo. È più facile. Anche se, no, no, devo fare la palestra. Devo fare la palestra perché devo poter allenare i Pokémon oltre il livello 55. Mi manca l'ultima palestra, devo farla per forza. Non posso assolutamente attendere oltre. Ad ogni modo, il video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, ovviamente. Alla prossima. Bye bye. Bye bye.